Il mio mondo sembra uguale al tuo, ma non lo è. Dove gli altri vedono la normalità, io cerco l'insolito. Dove gli altri lasciano solo tracce, i miei amici lasciano tutto ciò che mi serve. Dove sembro solo, sono sostenuto da tanti. Nel mio mondo, le regole sono cambiate. Tutto il mondo è un campo da gioco. E tutti sono giocatori. Per questo ti invito a seguirmi. Insieme trasformiamo questo mondo e creiamone altri. Con nuove sfide da affrontare. Allora mettiti in gioco. Sai dove trovarmi? Sono qui. Qui! Ovunque. Esci allo scoperto! PS Vita. The Word is in Play. Buongiorno. To be Lebensi.